Buonasera, sono Vitali Marco, il responsabile del settore giovanile della società S di San Vito, di Rimini. Siamo il secondo anno consecutivo che partecipiamo alla Bruzzo Cup, siamo ritornati perché la scorsa stagione ci siamo trovati molto bene, soprattutto con le strutture, ci sono dei campi veramente splendidi, si è stati bene in albergo, si mangia bene, è stata una bella esperienza per i ragazzi e abbiamo deciso di ripeterla. Iniziamo oggi la prima partita, siamo su questo campo con tutte e tre le categorie, esordienti, giovanissimi e lievi, abbiamo tre partite consecutive, una attaccata all'altra e ci auguriamo di fare bene, ma soprattutto che i ragazzi si divertino e vivano una bella esperienza. Grazie mille, devo dire due parole sull'organizzazione, secondo me funziona tutto bene, siamo ritornati perché siamo stati veramente bene e quindi il giudizio è più che positivo. Grazie mille. Grazie a tutti